Lo sapete che Phantom tenterà di scappare, quindi tenetevi i punti. Zohan, via! Per loro, sotto! Quanto sono? Tempo! D'accordo, d'accordo. Non mi piace il nostro paese. E così, siamo noi i cattivi. Starei volentieri a discutere con lei, ma proprio non ho tempo. Io dico solo, argomento è complesso. Noi viviamo qui da secoli! Dice bene, eh? Nessuno dei miei antenati ha mai messo piede su questa terra. No, no, donna lei. Ehi, che fai, scappi?